La Sala Grande al Palazzo del Cinema rinnovata, un'edizione fatta solo di prime visioni. Sono alcuni degli elementi della 68esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia che a pochi giorni dall'apertura del Sipario fanno sentire il presidente Paolo Baratta soddisfatto del lavoro fatto finora. È un'edizione della conferma, della conferma della bontà delle linee seguite appunto tenendo fedeltà a quelli che sono alcuni principi di fondo. La mostra d'arte cinematografica è una mostra che deve valorizzare al massimo tutte le esperienze e tutti i linguaggi. Da qui la grande importanza della sezione orizzontile. Deve sapere collocarsi nel mercato mondiale in un punto equilibrato e da qui l'importanza del fatto che quest'anno per la prima volta sono tutte prime visioni. La Sala Grande è stata ampliata ma è stato rispettato lo spirito dell'epoca in cui nacque il Palazzo del Cinema in 1937. Abbiamo ingrandito lo schermo, rifatto la sala nello stile dell'epoca, la sala ha migliorato molto. Una sala che segna un primato per la mostra di Venezia è l'unico festival a disporre ancora della Sala delle Origini.